Un tizio benestante esce da una festa alle 4 di notte, allora si mette alla guida del suo Ferrari soltanto che sta ubriaco fratico, quindi si avvia verso casa ma dopo 2 km becca un posto del blocco della polizia gli fanno paletta, lo fanno accostare, la gente si avvicina al suo Ferrari, gli fa abbassare il finestrino la gente si accosta e fa mamma mia che puzza d'alcol dentro sta macchina, ma lei è ubriaco no no guardi agente ho bevuto pochissimo, è solo un bicchierino, sono stato a una festa ma adesso vado subito a casa ma che subito a casa, ma non vede come sta, adesso io la rovino, forza favorisca patente e libretto insomma questo prende patente e libretto, ci mette 100 euro dentro, lo passa alla gente la gente vede questi 100 euro, li mostra al collega, strizza l'occhio al collega gli ridanno libretto e patente e la gente gli dice guardi questa volta gli è andata bene ma dritta a casa la prossima volta che la pizzico ubriaco, su affari sua, la ringrazio la gente, lei è stato veramente un angelo insomma questo tutto contento si riavvia verso casa, soltanto che dopo pochissimo becca un altro posto del blocco dalla polizia, allora fa madonna mia ma oggi tutti a mio ma chi mi ha detto di uscire da casa, mannaggia la miseria, un altro posto del blocco ho beccato insomma gli fanno paletta, lo fanno accostare, la gente si avvicina alla vettura, gli fa abbassare il finestrino e gli fa tutto bene signore, si si va tutto benissimo, ma che tutto benissimo, ma lei sta ubriaco fratico ma io la rovino, no guardi a 100 ho bevuto pochissimo, glielo giuro sono stato una festicciola ma adesso vado subito a casa, ma che subito a casa, forza favorisca patente e libretto che io la rovino insomma questo riprende patente e libretto, se guarda in tasca, vede i soldi che c'ha, c'ha 50 euro un fila 50 euro dentro al libretto, li passa alla gente, la gente guarda il libretto con questi soldi li mostra al collega, strizza l'occhio al collega, gli ridà libretto e patente al suo signore e gli fa, per sta volta ti è andata bene, ma dritta a casa perché se te ripizzi con la prossima volta la ringrazia la gente, guardi non accadrà più, insomma questo si rimette alla guida del Ferrari tutto contento che gli è andata bene, soltanto che dopo pochissimo becca un altro posto di blocco dalla polizia, porca miseria, mamma mia, ma che è la festa della polizia oggi ma tutti a me, ma me ne potevo rimanere a casa, staccate, paletta, lo fanno riaccostare la gente si avvicina alla Ferrari, adesso signore gli fa abbassare il finestrino salve signore, buonasera, tutto bene? sì sì, tutto benissimo, ma che è tutto benissimo, ma lei sta ubriaco, ma che non se ne rende conto ma no, guardi ho bevuto, ma che ho bevuto pochissimo, lei è ubriaco pratico forza, favorisca patente e libretto, insomma, questo riprende un'altra volta la patente e il libretto si guarda in tasca, trova 20 euro, li infila dentro al libretto, li dà alla gente, la gente vede sti soldi li mostra al collega, gli strizza l'occhio, gli gli dà il libretto e la patente a sto signore e gli fa forza, per sta volta ti è andata bene, ma la prossima che te pizzico, so affari tua la ringrazio, guardi, la gente, lei è stato veramente meravigliosa, insomma, questo si rimette un'altra volta la guida del Ferrari, tutto contento, che gli è andata bene per la terza volta, soltanto che dopo pochissimo, cacchio, sorte vuole, un altro posto ti blocca ancora allora fa, madonna mia, ma che ha fai stata la polizia oggi, madonna mia, ma chi mi ha fatto fa di uscire di casa, zack, paletta per la quarta volta, insomma, questo si riaccosta la gente, gli si accosta alla vettura, gli fa abbassare il finestrino, si avvicina a sto signore, gli fa, mamma mia, che puzza d'alcol dentro questa macchina, signore, ma che lei ha bevuto? no, guardi, lei assicuro che ho bevuto solo un goccettino piccolo, 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 ma adesso sto andando a casa, ma che sta andando a casa, favorisca patente e libretto, che io la distruggo oggi, insomma, questo poraccio, ripia, patente e libretto, se guarda in tasca però non c'ha più una lira, allora va, insomma, fruga, trova qualche spiccio, due euro, un euro, qualche bronzino, lo infila dentro al libretto, prende il santino del padre Pio, i figurine del Pio e il giocattolino, dà via, e gli passa tutto alla gente, la gente qui ha il libretto, vede tutta sta roba, gli fa, guarda, io mi pio pure tutta sta roba, basta che esci da sta rotatoria però, che so quattro volte che te fermamo.